Cosa non riparebbe? Non riparebbe il partito. È una questione cosa si fa e cosa non si fa. Non siamo mai entrati in partita. Sono stati molto bravi a farci già voto perché abbiamo corso, abbiamo pressato, però hanno qualità, nel processo, spesso sono riusciti a venire fuori da situazioni dove tante altre squadre vanno in difficoltà. Magari dobbiamo essere un pochino più compatti, più bassi. Anche c'è dargli iniziare l'azione con più calma e invece un po' la frenesia, un po' la voglia di fare il risultato ci ha portato a spendere tanto senza raccogliere niente. Abbiamo commesso anche tanti errori tecnici, soprattutto in ripartenza e poi quando sbagli fai fatica sia a creare sia in ogni caso torni a correre subito perché li perdi subito il processo della parte. Visto che ha messo Jefferson nel secondo tempo dando comunque più peso, ma questo lei lo sapeva comunque, non è che l'ha scoperto oggi al 46esimo della partita. Che soluzione aveva chiesto ai due davanti? Ghezzar e Laribi o a volte Ghezzar e Crimi? Perché poi Laribi e Crimi si sono cambiati di cuore. Sì, ma speravo di riuscire a fare più ripartenze perché ho messo tutta gente di gamba, Ghezzar doveva fare un gioco di sponda e dovevamo inserirsi con i vari Laribi, con Crimi, con gli Stoschi. Un pochino con caratteristiche diverse come avevamo fatto anche a Crotone dove avevamo fatto tante ripartenze qua da terra. È vero che giochi in casa, magari non ti hanno dato la profondità come altri e abbiamo fatto qualche errore di più. Quando prepari la partita vai anche a cercare alternative, soprattutto nelle parti dove hai per forza di cose e necessità di provare qualcosa di nuovo. Ma si può prendere in considerazione anche l'aspetto che ci siano avversari singoli che spacchino la partita, Rosina, Giacomazzi, insomma, a prescindere dagli esperimenti e le prove durante la settimana? C'è ovviamente questa squadra perché tutta la gente che ha fatto la Serie A, o quasi, tutti i reparti, quindi non è che… però si sa, non sono gli unici. Anche a Pescara stesso. Noi abbiamo fatto siccome una partita simile a Pescara dove non siamo riusciti a trovare i ritmi e dove ci hanno fatto girare. Invece tante volte devi forse affrontare da un gruppo come quando fai fuori casa, ma quasi, nel senso di compattarti nella tua metà campo e utilizzare meglio le ripartenze. Insomma, niente, da domani riordiniamo le idee e cerchiamo di preparare al meglio queste partite. A proposito di ripartire, può spostare l'asse, insomma, il fatto che magari fino ad oggi si lottava per il secondo posto. A Cesena si va a lottare intanto per riprendersi il terzo dei posti, che in questo momento è appannaggio da Cesena. Beh, a Cesena andremo a cercare di ripetere le partite ultime che abbiamo fatto fuori casa, con Crotone, col Bari. Sì, sapendo che anche questa è tosta e dura, però, insomma, fa parte del gioco. Se siamo là, possiamo pensare che non siano dure. È una forma di… cioè, si battaglia e si cerca di raccogliere i frutti di questa stagione, sapendo che dobbiamo in ogni caso, da certi punti di vista, dimenticare in fretta questa partita, da altri punti di vista, però usarla per dare certi tipi di insegnamento. Tra le tante cose buone che avete fatto quest'anno, però, c'è, diciamo, l'aspetto, contraltare, che quando avete perso le partite le avete perse quasi tutte, per certo Trapani che fa eccezione, in maniera abbastanza netta. C'è un filo conduttore, come dire, questo è il tallone d'Achille della mia squadra? Se penso alle ultime che abbiamo perso, più o meno, abbiamo perso col Pescara, abbiamo perso col Palermo, abbiamo perso col Siena, che sono le ultime tre che sono riducesse da Serie A. Proprio perché quando hai certe qualità, forse, di fronte, ci sono anche individualità che che ti possono complicare la vita. Noi, forse, il concetto qual è? Che abbiamo affrontato queste partite come il Novara, come il Padua, cercando di imporre sempre le nostre caratteristiche. E invece con questi, anche se li vai a tre addosso, a volte escono dal Pessi. e quindi magari devi essere bravo a non buttarti e a cercare di dargli il meno campo possibile, perché poi quando partono non arrivano più in porta, ma che fanno fine. Se aggiungi che in tutte queste partite più o meno sono mancati anche degli interpreti, forse il nostro gruppo in questi momenti, certi tipi di partite, può affrontarli quando è proprio al 100%, dico forse, perché in ogni caso la riprova non c'è, però insomma niente, si combatte, si va e deve essere bravi a ripartire. C'è una tra stipendenti? No, perché è un giocatore importante, però insomma non possiamo pensare a queste cose, dobbiamo pensare a trovare soluzioni e imparare degli errori e basta. Mister, una domanda, la chiave come contro il Palermo è stata ancora una volta l'inserimento di un giocatore in marcatura fissa su Viviani, come era stato Vasquez contro il Palermo, stavolta Giacomazzi? Certamente sono situazioni che un po' ci penalizzano, anche se secondo me dal punto di vista dello sviluppo fino a un certo zona del campo non è fatto malissimo. Ho fatto tanti errori, ma non li abbiamo fatti Federico, li abbiamo fatti tutti quanti assieme e tante volte erano errori di frenesia. La voglia di far bene c'era, penso anche verso il fine del primo tempo dove per frustrazione abbiamo commesso 3-4 falli anche brutti, che erano evitabili. C'era la voglia di far bene, ma niente, oggi non ci siamo riusciti. Parlava di soluzioni Mister, per superiore l'assenza di Jonatas. Ghezzal, come era la tua prestazione? Non aveva fatto il meglio peso degli altri, ma aveva fatto la prestazione che doveva fare, gli sono arrivati anche pochi palloni e invece dovevamo cercare di più, proprio con lui che era il terminale e l'inserirci nello scarico, cosa che non abbiamo fatto tanto. Quello che è stato chiesto, ha fatto, non è che oggi Ghezzal, non Ghezzal. Ghezzal fa parte del gruppo, secondo me ha fatto una prestazione anche discreta. E' logico che tutti quanti, quando giochiamo contro certe squadre, dobbiamo fare di più. Ma non è che Ghezzal, cioè da sottoscritto a ogni giocatore che entra in campo. Sotto di due gol, Bruno entra e non per esempio Vinicocca, che potrebbe avere un po' più di fantasia. Eravamo molto stanchi in mezzo, perché poi avevi tre o quattro giocatori, che erano pochi 90 minuti. Penso a Grimi, penso appunto a Ghezzal, penso alla Ribi. E queste squadre devi avere sempre gamba, perché sono rischi. C'erano state già altre ripartenze, Federico era molto stanco, Ristowski era stanco. Insomma, devi sempre mantenere la viva la partita, perché in ogni caso, sennò il rischio è appunto come è successo col terzo gol. Anche ti butti tutto al vento. E pigli un passivo, secondo me, anche più grande di quello che meriti, perché alla fine non hai preso 200 tiri in porta. Sotto al secondo tempo, quando sono andati hanno fatto male. Mister El Senna ha la squadra da evitare nei play-off? Siena, Modena, Vari. Chi fa là è perché ha qualità. Certo che la Siena, rispetto a queste squadre, ha delle... forse... Mario oggi non si è visto, però davanti ha perso giocatori importanti rispetto all'andata. però, in ogni caso, ha sempre un organico di valore assoluto, più degli altri. Quindi è logico che ha delle situazioni importanti. Cioè, insomma, è una squadra che è tosta e che bisogna stare attenti ad affrontare. Però, insomma, noi non dovremmo pensare ancora ai play-off. Dobbiamo pensare a Cesena e allo Spezza. Mister, premesso che loro hanno potuto segnare in qualsiasi modo. Giacobucci ha preso un gol simile o quasi a quello di Valero. Si è mostrato un neo nella sua, diciamo, crescita di quartiere, le uscite sono un problema? No, secondo me no. Il grande problema che tu hai avuto è questa marcatura e poi il vertice basso, che, perdendo Jonatas, perdi anche un giocatore che è uno o quasi due metri. Tante pali non passano e sono sempre a dare colpe a uno o all'altro. Penso che sia stato più un errore di marcatura che il suo, perché quando poi è là fai fatica a uscire. Grazie mille. Grazie mille.